Superata quota 50.000 somministrazioni in un giorno, la campagna fa registrare il record da quando è partita la campagna vaccinale. Martedì sono attese 34.000 dosi di Moderna, mercoledì invece saranno consegnate altre 210.000 di Pfizer. Procida intanto è la prima isola Covid-free d'Italia e si prepara alla stagione turistica, come spiega a 696 TV il sindaco Dino Ambrosino. Mettere in sicurezza tutte le isole minori, Procida, Ischia e Capri e tutte le altre, significa comunque dare un valore aggiunto all'offerta turistica nazionale. Dopo la capitale della cultura toccherà Ischia, intanto ha preso il via all'immunizzazione per i dipendenti del trasporto pubblico presso l'Hub dell'Eav a Porta Nolana, inaugurato da Vincenzo De Luca. Abbiamo deciso di partire con il comparto del trasporto pubblico, anche perché si sono aperte le scuole e quindi è indispensabile garantire condizioni di sicurezza anche sui mezzi pubblici. E proseguono le somministrazioni nell'hangar Atitec di Capodichino. In strada è perfettamente tutto veramente ben organizzato. Siamo pronti a ricevere il vaccino, ringraziamo l'organizzazione, tutto funziona bene. Finalmente è arrivato il momento. Tranquillo, anzi speravo che mi chiamassero presto, così è stato. Bellissima situazione, veramente molto organizzati e sono fiera di essere napoletana anche per questo. Ma l'allerta Covid resta alta. Nell'ultimo bollettino la curva dei contagi torna a salire e supera l'11% con 959 positivi e 30 decessi. In crescita anche i ricoveri ordinari, mentre sono in lieve calo le terapie intensive.